Invincibili guerrieri, valenti condottieri, votati anime e corpo a Lady Isabel, per divertare santi, per essere cavalieri, han sostenuto prove di rara crudeltà, ma ormai è giunto il momento, chi vincerà l'armatura d'oro? Sarà scontri sovraumani, duelli decisivi, che decideranno chi l'armatura indosserà, è un torneo micidiale, è uno scontro fratricida, il più forte dovrà infine, tra tutti i triomfa, chi sarà mai, chi sarà mai, chi sarà mai, chi sarà mai? Sono i cavalieri dello Zoria, quando nomi importanti sono grandi e forti eroi, Tutti decisi a vincere, ma solo uno alla fine potrà trionfare, sono i cavalieri dello Zoria, quando nomi importanti sono grandi e forti eroi, tutti decisi a vincere, ma solo uno alla fine potrà trionfare, ma solo uno alla fine potrà trionfare.